L'Istituto Superiore di Sanità ha espresso giudizio negativo sul progetto dell'inceneritore per fanghi proposto da Enne Rewind a Malcontenta. Notizia accolta con soddisfazione dai comitati del coordinamento no inceneritore. Un risultato importante perché l'Istituto Superiore di Sanità conferma molte delle questioni che noi abbiamo sollevato, che ha sollevato anche il CNR, in particolare per l'incenerimento dei PFAS, sui quali c'è molte incertezze, anzi i rischi sono ormai conclamati. E poi comunque l'Istituto riconosce che Porto Marghera è un luogo già inquinato, la qualità dell'aria è già oltre i limiti e quindi loro dicono in questo contesto non bisogna aggiungere altro inquinamento ma bisogna risanare. Ora evidenzia Donadel non si può più far finta di nulla. Nessuno può far finta di nulla, i fanghi sono contaminati da molte sostanze perché i depuratori civili ricevono non solo le scariche delle fognature ma anche delle industrie come delle concerie eccetera e tra questi inquinanti ci sono i PFAS. Il problema PFAS è un problema molto serio, va affrontato innanzitutto mettendoli al bando. Quali saranno dunque i prossimi passaggi? La palla passa alla Regione Veneto, prima di tutto al Comitato Tecnico di Valutazione di Impatto Ambientale e ovviamente a tutti gli enti coinvolti nella conferenza di servizi, primi tra tutti i comuni di Venezia e di Mira. La battaglia non è ancora vinta e la manifestazione del primo giugno dopo questo giudizio assumerà ancora più importanza. Abbiamo vinto la battaglia, significa che abbiamo fatto un buon passo in avanti, il primo giugno c'è questa grande manifestazione a Mestre, sabato primo giugno alle 15.30 stazione ferroviaria e quello sarà un appuntamento decisivo perché se saremo in tanti e questo è l'appello che facciamo ai cittadini forse riusciamo a dare un colpo decisivo a questo progetto.